Benvenuti, benvenuti con i maestri del gusto della provincia di Torino, di Torino e provincia, perché Torino qui gioca un ruolo importante, perché oggi parliamo di cioccolato e Torino davvero è una capitale del cioccolato, una capitale del cioccolato perché per tanti motivi, il primo motivo è che i Savoia hanno avuto un'influenza importante sulla cucina e soprattutto sulla pasticceria, dicono gli storici che in molti casi hanno emulato i re di Francia, per cui le regge, in queste regge che contornano un po' la città di Torino e la provincia, si esercitava la guerra in tempo di pace. Cos'era la guerra in tempo di pace? Era la caccia, era la cucina, era un modo per premiare i vassalli, no non c'erano loro i vassalli, ma i conti, i marchesi che erano lontani, venivano invitati a corte in modo che si prendessero informazioni, non si cospirasse e venivano premiati con una grande cucina. Attenzione perché la nostra Monica Bianchessi si è messa subito a lavorare, appena abbiamo detto la parola cioccolato, si è messa subito a lavorare, che cosa hai combinato, cosa stai facendo? Allora sto preparando una crema inglese per preparare poi un cremoso, un cremoso al cioccolato. Ecco, qual è la base di questa crema inglese? Hai aperto delle uova? Uova, zucchero, poi naturalmente latte e panna, andrò poi a cuocere il tutto portando 83 gradi e poi immergerò il cioccolato che si fonderà all'interno di questa crema. Esatto. Vediamo la tua interpretazione, qui ci sono dei simboli di Torino, il gianduiotto che è fatto sulla sagoma della maschera più, della maschera che rappresenta Torino, che è gianduia. Sono 9 i gianduiotti come 9 i mestri del gusto che io e Fabio Molinari vi andremo a presentare. Sì, perché proprio il gianduiotto è effettivamente il simbolo di Torino, del cioccolato torinese. Il suo nome, dicevi giustamente, si ispira alla maschera di Torino, gianduia, proprio perché il gianduiotto è iniziato a chiamarsi così a fine dell'Ottocento, a metà dell'Ottocento, perché è abbinato, presentato proprio insieme alla maschera di gianduia. Quando? Perché è nato prima, ma fino allora non era stato presentato al grande pubblico. Quando è arrivato tramite gianduia, è stato là e ha fatto sì che questo cioccolato, che ha una forma immediatamente riconoscibile, è quella di una nave rovesciata, o anche, tra virgolette, possiamo anche pensare a un lingotto, parlando di Torino. Ecco, quanta storia c'è? Come si respira la storia parlando del cioccolato? In questo caso la storia tra una Torino che guarda Parigi e una Parigi che sbircia Torino. Figurassi che a fine ottocento esce un libro, il cuoco piemontese perfezionato a Parigi. Sottotitolo, perfezionato a Parigi. Si andava a Parigi per avere il timbro che quello che si produceva era una cosa importante. oggi non è più così, questo complesso di inferiorità non c'è più, anche perché noi facciamo comunque grandi vini, come li fanno anche in Francia. C'è solo una guida, che è la guida Michelin, che è francese, che giudica la cucina italiana. Ma questo è un altro capitolo. Allora, cosa è successo anche? perché da un errore di un cioccolato che sarebbe dovuto andare nelle fogne, perché si era sciolto, giusto? Nasce anche una crema di nocciole che poi diventa famosa in tutto il mondo, giusto? Forse sì, forse addirittura ancora più famosa del Gianduioto. Per realtà l'origine è sempre la stessa, cioè l'idea di base è quella di coniugare il cioccolato con la nocciola. Il salto in avanti è stato proprio quello di utilizzare la nocciola tostata, di andare però a prendere quella piemontese, che è una nocciola con delle caratteristiche uniche, per questo in pasticceria viene particolarmente apprezzata. Infatti noi, una volta, adesso le leggi delle DOP e delle IGP hanno modificato, però una volta si diceva che la tonda gentile della Langa era usata nell'alta pasticceria. E anche un'azienda famosa di Alba ha continuato a usare la tonda gentile della Langa nei suoi prodotti di alta pasticceria. Però cosa è successo? Beh, il cioccolato piemontese ha invaso tutto il mondo, è andato nel mondo, ok? E quindi si sono cimentati in una rincorsa alla distinzione i maestri del gusto, cioè i piccoli cioccolatieri che non c'erano una volta, sì c'erano, poi sono diventati grandissimi, ma non c'erano tanti piccoli artigiani come ci sono oggi. Monica però ha fatto dei passaggi. Cosa stai combinando? Niente, ho aggiunto della colla di pesce naturalmente perché è il mio elegante e poi il cioccolato che si scioglie appunto all'interno. E lo metti così perché intanto poi si scioglie. A pezzi, esatto. Con il calore residuo. Con il calore residuo. Esatto, non sul fuoco mi raccomando perché se no andremo a bruciare il cioccolato e sarebbe veramente un peccato. Attenzione, questo è un consiglio audio. In questo modo invece il cioccolato avrà modo di sciogliersi dolcemente all'interno di questa preparazione a 83 gradi, poi nel frattempo sarà scesa ulteriormente la temperatura e così otterremo questa bella crema. E poi andiamo a frullarla e a montarla praticamente. Allora noi ti intercetteremo perché con la coda dell'occhio noi vediamo quello che fai. Allora, quindi questi cioccolatieri che secondo me hanno una tradizione ma sono venuti allo scoperto, nel senso che un mercato li ha voluti, ha apprezzato i loro gianduiotti perché tutti fanno i gianduiotti, i loro prodotti distintivi, le loro creme di nocciole perché oggi tutti fanno la crema di nocciola. Sono venuti allo scoperto, diciamo, negli ultimi vent'anni. La ribalta mondiale sicuramente. Chi più chi meno. Sono andati all'estero, hanno portato i loro prodotti all'estero. Allora partiamo da uno famoso al quale io sono particolarmente legato, Guido Gobino. Guido Gobino è di Farigliano, che è un paese che sta in provincia di Cuneo, verso Mondovì, però è un paese del vino, si produce un dolcetto straordinario, ma soprattutto a Farigliano ci sono tante nocciole. Da Farigliano Guido Gobino viene a Torino e qual è il suo prodotto? Oggi in marketing si dice prodotto killer, non perché fa male, ma perché sfonda il mercato. Il suo prodotto con cui sfonda è il Turinot Maximo. Il Turinot è un piccolissimo gianduiotto che ha dentro un'intensità di gusto di nocciola e di cioccolato mai provata prima. Io lo conosco il Turinot Massimo perché Guido Gobino mi mandò il prototipo, io allora scrivevo sull'Espresso e recensì per primo il Turinot Massimo. Oggi il Turinot Massimo compie 25 anni, oggi Guido Gobino per festeggiare i dieci anni della sua cioccolateria in Via La Grange, che era anche una tipografia storica, ha inventato il Turinot numero dieci. Quindi Guido Gobino, io direi conosciamolo e vediamo come produce il Turinot Massimo da questo filmato che ci ha inviato. La raffinazione del Turinot è il primo step per avere un grande prodotto. Parte dalle materie prime, dai cacao più aromatici del Sud America, dalla nocciola del Piemonte e dallo zucchero italiano. Si passa poi al colaggio, alle testate di estrusione, il metodo migliore per riprodurre esattamente quello che si faceva tanti anni fa a mano. Abbiamo lavorato tanto sulla raffinazione, sul metodo di tostatura delle nocciole, del cacao. Il palato è quello che nel tempo ci ha permesso di raggiungere un livello veramente eccellente. Abbiamo creato quattro ricette, una ricetta classica, una ricetta senza latte, una ricetta con il 40% di nocciole, che è il più 39%, e una ricetta fondente con la morbidezza del classico Turinot. E questo è il numero dieci, l'ultimo nato. Una storia che è iniziata 25 anni fa. L'idea di fare un cioccolatino piccolo, elegante, emozionante, gradito in tutto il mondo. Grazie Golosaria, grazie Paolo Massobrio per averci seguito in tutti questi anni. Grazie a te Guido per questi prodotti straordinari che hanno portato il Piemonte in tutto il mondo, trascinando anche l'attenzione e la curiosità su tutti gli altri colleghi, perché poi è così. E allora andiamo a presentarne un altro maestro del gusto. Ad esempio, parliamo della Perla di Torino, che è un'attività nata dalla passione di Sergio Arzilli, che l'ha appunto fondato, lui è arrivato da una famiglia di pasticceri, fonda questa cioccolateria, perché lui è un appassionato di cioccolato. Ha nel mondo della cioccolateria piemontese una passione, che è quella per i tartuffi dolci, perché ricordiamo che nel mondo cioccolateria piemontese abbiamo parlato del Gianduiotto, chiaramente, ma in realtà è veramente un mondo. Credo che forse in così pochi chilometri una quantità di dolci specifici a base di cioccolato sia impossibile da trovare probabilmente nel resto del mondo. E appunto Sergio Arzilli poi elabora una serie di proprie ricette, nel 2016 inaugura un nuovo laboratorio, entra poi con lui a lavorare la figlia Valentina e oggi appunto la Perla abbina a una serie di prodotti particolari anche un packaging molto curato, eccellente, ed è quello, e questa è una caratteristica che troveremo in altre cioccolatrie, perché? Perché il mondo del cioccolato ha saputo distinguersi anche su questo, anche su una serie di presentazioni molto belle. Parlavamo prima di Gobino, che è stato uno dei primi a puntare anche sul packaging, e oggi tante cioccolatrie piemontesi siano distinguersi anche visivamente. Monica, a che punto siamo? Ci siamo. Questa naturalmente è la preparazione che andrà fatta a riposare in frigorifero per tutta la notte, perché deve solidificarsi. E su dove l'appoggiamo? L'appoggeremo su delle briciole che ho realizzato con, è un biscotto praticamente alle nocciole, appunto per esaltare il profumo della nocciola tonda gentile e poi ci metteremo anche un po' di nocciole prolinate che ho fatto sempre ieri sera. Per te. Grazie. Prego. Ascolta Monica, vai lentamente, abbiamo ancora sette maestri del gusto rappresentare. Ah, caspita. E quindi, tu adesso presenti anche Boella e Sorrisi. Boella e Sorrisi, come dice il nome, è frutto di un matrimonio tra Stefano Ramos Sorrisi, un'azienda storica produttrice di cioccolatini al room, e Elena parte Boella, invece loro puntavano sulle paste lievitate, sui pannettoni. L'azienda decide di prendere avanti sulla storia del cioccolato, sul cioccolato, e ha due caratteristiche particolari, Gianduiotti, quindi classici fondenti, noccioli, insomma poi nei vari gusti, perché il Gianduiotto è anche questo, cioè si parte dalla base, da quello che è Gianduiotto archetipo, e poi c'è tutto un mondo dietro, fino ad arrivare ad esempio le prime, in questo caso le prime sparmabili, come la nocciola, che come ci ricorda il nome chiaramente, ha il suo fulcro nella nocciola. Ecco, il cioccolato, tra l'altro il cioccolato fondente, amaro, per esempio Monteccone Cioccolato, che è un cioccolatiere, anche questo da sempre presente sul nostro golosario, usa un cacao venezuelano dal 60 al 90%, e tieni conto che il cioccolato nelle ricette di Casa Savoia veniva utilizzato con la selvaggina, c'è una ricetta che faceva ancora il titolare del ristorante, la Carmagnol di Carmagnola, che era la lepre al cioccolato, che è mutuato anche questo dalla Francia. Anche perché il cioccolato non era dolce in origine, cioè quando è arrivato qui in realtà non era dolce, non era zuccherato, noi abbiamo in mente il cioccolato zuccherato, in realtà è una bevanda energetica non dolce, ma molto saporita, perché il cioccolato ha tutta una serie di caratteristiche aromatiche, e oggi questi cioccolatieri che vanno a cercare queste monorigini vanno proprio a puntare su questa aromaticità diversa, su queste caratteristiche gustative, al di là dello zucchero e del dolce. Esatto, Franco Garelli, che è il titolare di Monteccone Cioccolato, tra l'altro ha realizzato proprio dolci senza zucchero, si è distinto per questo oltre che per la qualità dei suoi monorigini. Poi è da scoprire tutta la teoria di dolci che fa Monteccone, perché poi ognuno ha almeno, credo in media, 20 referenze di prodotti legati al cioccolato. Ecco, vediamo che stai... Ma questo sembra un grande rocher. Verón, che carino che è, praticamente è una pallina di cioccolato con questa varicella di nocciole. Dentro è vuoto. Dentro è vuoto, sì. È casualmente vuoto perché purtroppo non ho il cucchiaio caldo, se avessi fatto caldo avrei fatto appunto una chenelle più chiusa, però è bella anche così, esatto. È molto bello, sì. Quindi non è zuccherato perché ho messo solo un cucchiaio di zucchero all'interno, quindi si sente il sapore del cioccolato fondente, però ho voluto incentinare un po' il tutto anche con un po' di caramello. Molto bene. Allora, andiamo, noi intanto continuiamo. Fabio, Ziccat a Torino. Ziccat, anche in questi casi, parliamo di una cioccolateria che si è rinnovata e si è rinnovata perché è stata appunto rilevata una serie di soci giovani che nel 2014 hanno ripreso questo storico marchio, lo hanno appunto rilanciato e hanno deciso anche di aprire il loro laboratorio alle visite esterne, piacciono sempre molto le visite all'interno del mondo del cioccolato, la Fabio, il fin di Tim Burton insegna. E loro, accanto a questo, hanno puntato sui prodotti classici come Gianluiotti, ma anche su tavolette monorigine, andando proprio a scovare questi cru che nel cioccolato sono importantissimi. Ecco, io ho trovato un prodotto di cioccolato, Piemonte, Piemonte cioccolato, che secondo me piace a Monica. Potrebbe piacere, sì, perché lui ha sempre avuto una grande passione per quello che noi piemontesi, fin da piccoli, conosciamo bene, perché queste paline, questi bomboni al cioccolato... Che lui chiama cricri, sono dei cricri, infatti. Cricri, no, che sono proprio croccanti e questo è il prodotto che ha reso famoso la famiglia Fiorasio. Dal 1948 c'è questa pasticceria, poi ha cambiato sede, però in tutta la sua gamma, ovviamente, tavolette, d'argè, alle varie aromatizzazioni, ma il prodotto per cui è ricercato e conosciuto è il cricri. Anche qui c'è la nocciola proprio al centro. Anche qui la nocciola. Poi andiamo su... Tocca a me. Tocca a te, perché lo conosci bene. Tocca a me. Guido Castagna, qui siamo a Giaveno. Guido Castagna lo conosco bene perché lui ha portato la notorietà della cioccolateria piemontese in televisione e ci siamo incontrati alla prova del cuoco con Antonella Clerici e lui faceva quello che sta facendo per noi oggi Monica, cioè delle ricette con il cioccolato. Lui si definisce pasticcere del cioccolato. Ha iniziato con i vecchi macchinari per tostare le nocciole, ovviamente solo del Piemonte, e poi ha creato il metodo naturale Guido Castagna. Quindi è fiero di applicare questo metodo che si rifà alla purezza. Lui produce un gianduiotto che si chiama giovinotto. 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 Giovinotto vuol dire. E poi i vari tartufi e ovviamente anche la sua crema. In particolare sono le tavolette monorigine 100 grammi, no? Che sono da degustazione e soprattutto per favorire la degustazione con dei distillati importanti. Andiamo con il legno. E poi andiamo con il legno. Conosco un altro maestro che è Zuccarello. In questo caso una pasticceria, partiamo anche di pasticceria perché hanno puntato molto sulle torte, le torte dove il cioccolato chiaramente è protagonista, che gli hanno resi famosi ben oltre la provincia di Torino, ma hanno saputo la loro caratteristica proprio quella di sapere unire una serie di prodotti, anche molto distanti tra loro, in un'alchimia ben riuscita. Ad esempio, per farvi un esempio, leggiamo la linea Osmosi, tanto per dire, sfrutta semicandita, sciroppo invasiato di vetro, mirtilli, liquirizia calabrese di Rossano, pesca e zafferano. Tanto per farvi capire quello che la creatività di un maestro cioccolatire torinese riesce a mettere insieme a conciliare. Allora, l'ultimo che presentiamo, poi dopo, anche perché è il momento di assaggiare, cosa dici? Eh sì, a questo punto lo guardiamo da un po'. Eh sì, io quel buco lo riempirei con un gianduiotto, tanto voglia di mangiare cioccolato, ma sai che durante il lockdown c'era, io ho provato questa esigenza fisica di mangiare del cioccolato, no? Poi se andavi a comprare il cioccolato al supermercato ti faceva la multa, come chi ha comprato il vino, perché non era un bene di prima necessità, ma cosa ne sa lo stato di qual è la prima necessità di una persona? Il cioccolato è prima necessità, perché dal punto di vista psicofisico fa molto bene. Poi soprattutto questa gamma dei cioccolatieri torinesi e della provincia di Torino. Beh, qui c'è un campione, perché è Giordano, Giordano è legato a un paese che è Leini, no? Nella, abbastanza vicino a Torino, ma attenzione, Giordano è conosciuto per la sua bottega in piazza Carlo Felice. Tu esci dalla stazione di Porta Nuova e vai in questa bottega antica di Giordano, perché ci vai? Perché lui è famoso per il gianduiotto fatto e incartato a mano, no? Ancora oggi. Addirittura le donne che incartano a mano il gianduiotto di Giordano si chiamano gianduiere, hanno un nome proprio come se fosse un mestiere particolare. Beh, lui ha creato anche la Giacometta, che era la moglie di Gianduia, che è una crema con granella di nocciole, e poi fa un cremino, perché anche i cremini fanno parte delle referenze dei cioccolatieri piemontesi, con l'erbaluce di Caluso, anzi con l'erbaluce di Caluso passito, perché a Torino c'è anche questa maniera di legare la filiera dei produttori, per cui l'erbaluce di Caluso è un vino della provincia di Torino e viene utilizzato non solo per essere abbinato in pasticceria, ma anche per entrare nelle ricette della cioccolateria. Quindi noi abbiamo finito il nostro giro tra questi nove magnifici maestri del gusto, ma ce ne sono tanti altri, no? Tanti di più. L'elenco dei maestri del gusto è molto ampio, nel reparto dolci è molto ricco. Sì, è molto ricco, per i pasticceri e cioccolaterie, certo. E anche sul Golosario, io cito, ci sono non so quante pagine che citano tutti i cioccolatieri di Torino. Sì, sono tali che abbiamo dovuto dividere in due, cioè Torino e provincia di Torino, perché erano tanti, tutti insieme. Tutti insieme. Quindi è bellissimo poter dire che Torino è una capitale europea del cioccolato, ma perché c'è un fondamento storico importante. È arrivato il momento di vedere qui davanti a me questa... come lo chiamiamo questo? Non lo so, provare. Come lo chiamiamo? Questo è un cremoso, un cremoso al cioccolato. Un cremoso al cioccolato dovremmo dargli un nome, non so, il cugino di Gianduia. Ebbiamo informare se aveva qualche cugino, Gianduia o... Garbuia, no, Garbuia era uno che combinava guai. Vabbè, allora vediamo un attimo com'è. Voi mi... mamma mia che... ecco, sai cosa mi piace? La generosità. Generosità. Sì. No, hai visto? È generoso proprio. Sì. No, come del resto i prodotti che abbiamo citato, soprattutto l'ultimo, questo Gianduiotto generoso, no? Quello di Giordano o generoso quello di Gobino in intensità. Benissimo, potrebbe essere anche un nome allora del dessert, il dessert generoso. Generoso. Chiamiamolo generoso, va bene. Ok. Sa di cioccolato, sa di nocciola. Allora, abbiamo inventato il generoso. Ok, benissimo. Si sente molto il cioccolato. Ok. Non deve essere dolcissimo, a parte forse il caramello che ho messo sopra. Infatti, non è dolcissimo, non è stucchevole. Ok. Si sente... c'è un appassionato di cioccolato, si sente felice. Del resto a Torino c'è un dolce che chiamano il preferito, no? E il preferito di solito ha un po' di liquore, di ciliegia. Oppure, il preferito, Giovanni Arpino chiamava il preferito un dolce misterioso di cui non si poteva dire la ricetta. Noi non lo chiamiamo preferito, lo chiamiamo il generoso. Ok. Qui, con i maestri del gusto di Torino, a Golosaria Fiera Online, è nato il generoso. Vi assicuro che è una specialità assoluta. Grazie e buona continuazione. Visitate Golosaria Fiera Online. Grazie. Grazie. Grazie a tutti.